Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi volevo prendere in giro i bambini Yeah! Praticamente entrano in delle live Preferibilmente quelle dei bambini Che giocano a Fortnite, a Minecraft, a Roblox E fare col profilo il Mega King Cioè il profilo che ho creato per l'esperimento delle scrittori gambi Scrivere tipo cose stupide Come se fossi anche io un bambino di 7 anni Tipo che giochano a Fortnite Ehi ma posso entrare nel tuo team di Fortnite? E basta Quindi iniziamo subito Oh qualcuno è live, no? Live Fortnite iscritto ricambio È in live adesso? No, uno spettatore è avviato il 2 giugno 2019 Ok mi sa che questo qui è in live da un po' Eute ma è in live stream Secondo me è tedesco Il mondo di Barbie no, grazie Vediamo cosa posso scrivere Ciao, sei troppo un pro Ti stimo Fra Oh, rispondi Ti prego dimmi che mi vuoi bene Che mi stimi anche tu Ti fate Napoli Noi Sì Voglio We Pizza Sì voglio We pizza Giusto Ah vedi ha detto Sì voglio we pizza Ah per giocare con me dimmi il tuo ID ti metterò in coda Ok Il mio ID è uguale Non può senza accento Facciamo Entrare Trattino basso Non entra Non penso proprio Dopo tocca a me Juventus fan 720 Schifo Juve Io manco seguo il calcio Però lo scrivo al caso Schifo Juve Schifo Juve Schifo Juve A posto Non c'è la stessa cosa di con un bambino con due spettatori Che magari risponda a tutto Poi a quel paese E ora basta Ok c'è questo qua che sta giocando a Rocket League Però non sta parlando Prima se cosa le posso scrivere Ciao Adoro I tuoi Video Sì però è morto Non ho capito che è No è morto Ehi No è morto a posto Ah c'è anche il mod Pazzesco I mod sono I mod sono quelli che gestiscono la chat In live Di solito O in generale il canale I commenti brutti O negativi O che chiedono informazioni Eccetera eccetera Le skins Pazzesco Fortnet E' proprio un gioco di schifo Grazie per esserti iscritto Il mega king Ok Fermi Ok Allora vediamo cosa posso scrivere Io vorrei Poter Giocare Ma Mia mamma Dice Che Non Non le piace No perché è troppo corretto in italiano No gli piace Fortnut Perché Ammazzi La Gente Io però Volevo giocare Con voi Era la faccina triste Adesso devo aspettare 40 minuti Che gli arriva il messaggio Ecco è arrivato il messaggio Io vorrei poter giocare Ma mia mamma dice che non gli piace Fortnut Perché ammazzi la gente Io però vorrei giocare con voi Eh capisco Eh capisci Ciao Ciao La mod mi dispiace Ma bisogna sempre Vedere i genitori Vabbè Ora Picchio Mio Fratello E Gli dico Di farmi Giocare Tanto Mia Mamma Non c'è Vediamo che rispondo No se tua madre Non vuole Non possiamo farti giocare Dice il mod No Non si picchiano le persone Ragazzi Ok Scusa Basta Basta Dove è il signor Marco Signor Marco Da questi io devo andare Da quelli che fanno i video di Fortnite Soprattutto E ci hanno mille iscritti E uno spettatore Sei Molto Più Forte Di Ninja E Power Apposto Questi sono tutti i giocatori di Fortnite Conasco Ho detto che sono più forti di Ninja e Power Secondo te Axel È vero È vero Lo dice pure lui Lo dice Axel Ma tutti chi Chi sei Sai chi sono Sono Lillo La comicità Che Pizzati Io vorrei Giocare Apportnite Ma Ho solo La PS2 Perché Sono Povero E Mio Papà Fa Il Barbone Vabbè chiedi un po' di soldi in giro Sì Sì Ogni tanto Mi porta 10 centesimi E no Facciamo 20 Così Mi Compro Legole Adore E no Ma se poi ti compri quelle Non ti puoi prendere la PS4 Ha ragione pure lui Niente Terrò questi 20 centesimi Che mi porta ogni mese Mio papà Per comprare la PS4 Una persona in live Una persona in live Sono emozionati Se vuoi Ti Invio Regalo Una Skin Vabbè Puoi provare al massimo Ma io ti dico che Ora 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 Un po' Poverino Ti offro una skin Ok voglio questa Ok Ed esco Non gli arriverà mai niente Oh Mandamela Pecissimo Ci credo Non si può giocare un po' Casa triste Bro Mi dispiace Era un Prank Una parola a caso Spata Fung Spata fungapa A posto Vabbè ragazzi Ho provato a fare quello che potevo fare Però non ho fatto niente di troppo esagerato È stato un po' divertente Spero che il video vi sia piaciuto Vi è piaciuto lasciate like Iscrivetevi al canale Ciao Ciao